Ok, ciao a tutti ragazzi e ragazze Allora, per i pochi iscritti che ho saranno due No, mi sa che sono veramente due Allora, oggi voglio unboxare Unboxare, sì, unboxare Il cappello di Clementine Che non è nell'originale, mi sa che non esiste l'originale Però, infatti, ho ancora il giuffo così No, lo prendo Eccolo, allora The Heart Allora, questo qui è il cappello di Clementine Chi non lo sapesse è di The Walking Dead Sia season one e season two Del videogioco E questo, ovviamente Allora, la D l'ho fatta fare io In un posto specializzato Che, appunto Diciamo che All'inizio lo volevo comprare su ebay Appunto, it, anche o punto com Che non era così Ma era stampato Stampato Solamente che Ho detto che stava un botto Poi ci voleva Paypal Che non avevo, diciamo E quindi ho fatto affare E diciamo che secondo me è venuto più bene E vabbè, questa qui era una piccola unboxing Cioè, unboxing sono quelle vere Diciamo che questo qua è il cappello di Clementine Allora, ciao Love you See ya Bye 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 Bye